Chiara si trova in un ascensore di massa 1 tonnellata che sale alla velocità costante di 10 metri al secondo. Le cade dalla tasca la penna da un'altezza di 1,2 metri, nel momento in cui l'ascensore comincia a rallentare, sottoposta a una forza costante di 3 per 10 alla 3 newton. Ora disegniamo la situazione. Abbiamo Chiara all'interno dell'ascensore e le cade una penna. L'ascensore è sottoposto alla forza peso, ma sappiamo anche che l'ascensore per salire ha una forza che lo spinge, una forza di spinta. Ora sappiamo che se la forza peso è maggiore della forza che spinge l'ascensore, allora l'ascensore scende. Viceversa, se la forza peso è minore della forza che spinge l'ascensore, allora l'ascensore sale. Viceversa, se la forza peso è uguale alla forza che spinge l'ascensore, allora abbiamo che o l'ascensore è fermo, oppure si muove di moto costante. Nel nostro caso l'ascensore sta rallentando, quindi avremo che la forza che spinge l'ascensore sarà più piccola della forza peso. In questo caso l'ascensore rallenta perché è spinto da una forza più grande, che è la forza peso. Un'altra informazione che abbiamo è che la penna prima era in tasca o nelle mani di Chiara, dopodiché quando l'ascensore inizia a rallentare, la penna non si trova più nelle mani o nella tasca di Chiara. Quindi cosa vuol dire? Che la penna non è più vincolata al sistema persona-ascensore, ma è libera di muoversi. Quindi l'unica forza a cui è soggettata la penna è la forza peso. Quindi sulla penna sarà soggetta la forza peso, mentre sull'ascensore e su Chiara saranno soggette due forze, una la forza peso e l'altra la forza che spinge l'ascensore. Quindi la forza risultante, possiamo dire la forza che agisce sull'ascensore, possiamo porla uguale alla forza peso meno la forza che spinge l'ascensore. Andiamo avanti con quello che ci chiede l'esercizio. L'esercizio ci chiede, scrivi la legge oraria della penna nel sistema di riferimento di un osservatore a terra e la legge oraria del pavimento dell'ascensore nello stesso sistema di riferimento. Quindi, come se noi avessimo un osservatore che guarda cosa sta succedendo. A questo punto ci torna utile prendere un sistema di riferimento. L'osservatore si trova qui. Il sistema di riferimento lo prendiamo noi legato al pavimento, lo prendiamo sul pavimento dell'ascensore. Quindi, cosa avremo? Avremo il nostro sistema di riferimento, il nostro asse X e l'osservatore che guarda quello che sta succedendo vede qualcosa, un movimento legato alla penna e un movimento legato all'ascensore. Il movimento legato alla penna è un movimento che deve tener conto della distanza che c'è fra la penna e il pavimento perché in questo caso il pavimento per noi rappresenta il punto 0, origine, del nostro sistema di riferimento. Quindi, se dovessimo scrivere l'equazione relativa alla legge oraria della penna rispetto al sistema di riferimento legato alla piattaforma dell'ascensore scriveremo che la legge oraria rispetto al tempo della penna sarà uguale alla distanza che c'è dalla penna alla piattaforma dell'ascensore quindi X0 più che cosa? La velocità della penna perché la penna che era nelle mani di Chiara era in movimento insieme a Chiara con l'ascensore quindi ci sarà un movimento legato una parte legata alla velocità più che cosa? Anzi, in questo caso meno che cosa? La penna è soggetta alla forza peso quindi meno un mezzo G accelerazione di gravità perché è l'unica forza attualmente agente sulla penna T alla seconda Analogamente se adesso dovessimo guardare la piattaforma e quindi l'ascensore a cosa è soggetto diremo che per l'osservatore a terra la legge oraria diventa la legge oraria dell'ascensore è uguale beh, la piattaforma rispetta la piattaforma diciamo in alcuna distanza quindi è uguale a 0 il nostro X0 è uguale a 0 la piattaforma però è soggetta a una velocità che abbiamo visto essere uguale alla velocità che aveva l'ascensore prima che inizia a rallentare quindi V0 T poi abbiamo detto che l'ascensore rallenta quindi se rallenta sarà soggetto a una forza peso maggiore della forza della spinta dell'ascensore verso l'alto quindi meno un mezzo che cosa? l'accelerazione dell'ascensore A T quadro tenendo conto che questa accelerazione o decelerazione è la decelerazione che ci viene data dal problema cioè la forza una forza che rallenta l'ascensore è pari a 3 newton guardiamo la domanda successiva cioè quanto tempo impiegherà la penna a toccare il pavimento dell'ascensore per affrontare questa risposta facciamo questa considerazione abbiamo scritto le due leggi orarie quella della penna e quella dell'ascensore senz'altro quando la penna toccherà il pavimento dell'ascensore penna e ascensore saranno coincidenti avranno la stessa distanza quindi l'x di T no? della penna sarà uguale all'x di T dell'ascensore per un certo valore del tempo quindi cosa potremmo fare? potremmo scrivere queste due equivalenze queste due leggi orarie in questo modo già combinandole fra loro cioè potremmo dire che x0 più v0 T meno un mezzo G T quadro è uguale a v0 T meno un mezzo A T quadro e andiamo a cercare il valore del tempo per cui la distanza fra la penna e l'ascensore è 0 cioè la penna è sul pavimento dell'ascensore ugualiando queste due leggi orarie otteniamo questo risultato andiamo adesso a fare una semplificazione perché ci sono dei valori uguali questo v0 T compare da una parte o dall'altra e rappresenta lo stesso flore quindi possiamo scrivere questa formula in questo modo che x0 uguale a un mezzo che moltiplica g meno A chiusa parentesi t alla seconda e quindi potremo scrivere che t alla seconda è uguale a 2x0 fratto g meno A e t uguale la radice quadrata di 2x0 fratto g meno A andiamo adesso a calcolare il valore del tempo t ma prima di tutto dobbiamo calcolare il valore di A dell'accelerazione perché g lo conosciamo che è il nostro 9,8 metri fratto secondo quadrato x0 lo conosciamo perché è l'altezza che aveva la penna quando cade di mano o di tasca di chiara cioè 1,2 metri di altezza dalla piattaforma dell'ascensore noi sappiamo che la forza a cui è soggetto l'ascensore la possiamo scrivere come m A come massa per l'accelerazione quindi A è uguale la forza che agisce sull'ascensore fratto la massa dell'ascensore noi conosciamo la forza che agisce sull'ascensore perché sono 3 per 10 alla 3 newton diviso il peso dell'ascensore che sappiamo che è una tonnellata quindi 1 per 10 alla 3 chilogrammi quindi viene fuori un'accelerazione pari a 3 metri fratto secondo quadrato sostituendo questo valore all'interno della formula del tempo troviamo che T uguale alla radice quadrata di 2 per 1,2 fratto 9,8 meno 3 uguale alla radice quadrata di 2,4 diviso 6,8 uguale a 0,59 secondi il problema il problema poi mi chiede e se la velocità iniziale fosse stata di 5 metri al secondo perché sappiamo che l'ascensore si muoveva di 10 metri al secondo bene guardiamo la nostra formula e quello che abbiamo scritto abbiamo scritto questa formula in cui la velocità iniziale dell'ascensore non ha alcuna rilevanza perché si eliminano da entrambe le parti quindi l'unica rilevanza che ha per definire il tempo che impiega la penna per arrivare sulla piattaforma dell'ascensore sono la distanza della penna dalla piattaforma dell'ascensore e la forza e l'accelerazione di gravità e l'accelerazione dell'ascensore quindi se l'ascensore sta rallentando o sta salendo e quindi sta aumentando la sua velocità quindi in questo caso la risposta se la velocità e se la velocità iniziale fosse stata di 5 metri quadri la risposta sarebbe sempre 0,59 metri al secondo l'altra domanda è e se l'ascensore invece di rallentare accelera con accelerazione di 3 metri al fratto secondo quadrato beh allora in questo caso invece di rallentare accelera quindi la forza che spinge l'ascensore è maggiore della forza peso quindi l'ascensore va più forte cioè sale di più quindi aumenta la sua velocità a questo punto ci aspettiamo che la penna raggiunga il pavimento prima a questo punto ci possiamo aiutare ci possiamo fare aiutare dalla formula che abbiamo già calcolato ridotto in forma semplice per calcolare il tempo cioè t è uguale la radice t2 x0 fratto g in questo caso più a perché l'accelerazione non è più negativa cioè non rallenta ma accelera quindi è positiva a questo punto basta sostituire i valori e abbiamo la radice quadrata di 2 per 1,2 fratto 9,8 più 3 uguale alla radice quadrata di 2,4 fratto 12,8 uguale 0,43 secondi secondi